L'Apollino è una scultura in marmo di Antonio Canova, conservata nelle collezioni comunali d'arte a Bologna. Rappresenta il giovane Apollo, che esulta dopo aver sconfitto il serpente pitone. L'opera, alta 140 cm, mostra una maestria nella resa delle forme anatomiche. Per decenni è stata attribuita a Cincinato Baruzzi, allievo di Canova, ma nel 2013 è stata riconosciuta come un'opera originale di Canova.